Il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas è a Gerusalemme per discutere i piani di Israele e di annettere parti della Cisgiordania occupata. La Germania, che si accinge a guidare il consorzio europeo da luglio, non appoggia la mossa di Israele. L'annessione fa parte del piano per il Medio Oriente dell'amministrazione Trump e ha suscitato critiche da parte di alcuni dei più stretti alleati di Israele. Israele vuole pace e sicurezza. Ci aspettiamo che la comunità internazionale chiarisca ai palestinesi che il loro rifiuto di impegnarsi non farà avanzare gli interessi palestinesi, ha dichiarato il ministro degli esteri israeliano. Condividiamo queste preoccupazioni, è noto, con i nostri partner europei e insieme all'Unione riteniamo che l'annessione non sarebbe compatibile con il diritto internazionale ed è per questo che siamo ancora impegnati in una soluzione negoziata e consensuale a due stati, ribatte il capo della diplomazia tedesca. I palestinesi hanno comunque respinto il piano dicendo che favorisce ingiustamente Israele e hanno dichiarato che non si sentono più vincolati dagli accordi firmati. Si teme per un ritorno alla violenza se il piano verrà attuato.